Siamo a San Vincenzo che si trova nella costa Etrusca e io sono con Pasquale Torricelli, proprietario del ristorante Il Timone. Allora Pasquale, quali sono le tue specialità? Ma qui le specialità del posto sono, in Toscana vanno come specialità, diciamo in più è la bistecca di chianina, tagliata di carne chianina, poi sulla pasta c'è cappellacci maremani con ricotta e spinaci. I cappellacci cosa sono? Sono della pasta fatta in casa, ripieni con spinaci e ricotta, questa è una specialità di Toscana che va da sempre, tipo tortelli, tagliolini, tagliatelle, sempre pasta in casa che noi usiamo in questo ristorante. Fatta comunque pasta fresca? Sì, noi abbiamo pasta fresca e pasta secca, usiamo solo la pasta fresca maggiormente. Grazie Pasquale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.